Il Vangelo narra che Gesù fu contannato dallo spirito, contotto meglio, dallo spirito nel deserto. Digiunò 40 giorni e 40 notti. Lo spirito era disceso sopra Gesù in forma visibile. Nel Battesimo, presso il Giordano, e lo aveva introdotto solennemente nella missione del Messia. Tutti il popolo aveva ascoltato le parole del Padre che, aperto i cieli, pronunziò «Questi è il mio figlio prediletto, nel quale ho risposto le mie compiacenze». E prima di conturlo tra gli uomini, nella sua omissione caratteristica di Messia, Gesù si ritira nel deserto, il grande deserto del Mar Morto. Monti, spogli, desolazione, animali, difficoltà di vita. Gesù si ritira in questo deserto e per 40 giorni e 40 notti non mangia, beve un surso d'acqua e dorme sulla nuda terra. Per i suoi monti squallidi e le sue gole dirupate e per la sua aridità e difficoltà di accesso è fra i deserti più orridi della terra. In questa solitudine, Selvaggia doveva proporsi al suo compito messianico. «Vi passò 40 giorni, esposto giorni e notti all'inclemenza del tempo, ma quanto più lontano era dagli uomini più si faceva vicino a Dio Padre. La vita in quell'orrida solitudine fu certamente una vita di preghiera con Dio». Lo Spirito Santo ha condotto anche noi nella solitudine e noi facilmente l'abbiamo cercato di allontanarli il più presto possibile. La penitenza e la preghiera di Gesù ha santificato la nostra penitenza e le nostre preghiere e ha reso le ha reso feconde. Noi riempiti dalla grazia di Cristo siamo come delle centrali che alimenta tutta una rete di servizi con la luce, con i macchinari che vengono alimentati da questa centrale, ecco la nostra centrale. Siamo noi che diamo vita alle azioni, che poi vengono prodotte dallo Spirito Santo. E se questa nostra centrale si blocca, la vita degli uomini diventa arida. Gesù nel deserto compatte il suo tentatore. Dopo i 40 giorni di digiuno e di preghiera gli si avvicina il tentatore. Se sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane. Gesù aveva fame e quindi la tentazione era aderente alla sua necessità. E Gesù respinge la tentazione. Sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Facciamo subito la nostra riflessione. Ma la tentazione era proprio una tentazione. Era un'osservazione giusta. Tieni fame, hai la possibilità di fare i miracoli, fai un miracolo e mangia. Niente di difficoltà, è questo. Eppure, vedete, Dio diede la potestà a Gesù di compiere i miracoli, non per suo tornacondo, per togliersi di mezzo alla penitenza, ma per avere una penitenza a favore degli altri. Gesù compie i miracoli sempre a favore del popolo di Dio. Satana passa ad un'altra tentazione, spingendo Gesù a gettarsi dal pinnacolo del Tempio. Gesù respinge anche questo suggerimento e sceglie la via dell'umiltà e della sofferenza. Non tenterai il Signore Dio tuo. Il tentatore non si rassegna e propone a Gesù che gli consegnerà tutti i beni della terra. Gesù rigetta ancora questo tipo di tentazione. Via da me, Satana! Sta scritto, adorerai il Signore Dio e Lui solo servirai. Lottare contro Satana è un nostro compito essenziale. Tutti siamo peccatori, ma dove abbondò il peccato ha pure sovrabbondato la grazia.